Musica Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana Oggi è l'ultima settimana prima del Natale Perché questo weekend sarà Natale Oggi fino a venerdì lavorerò full tutti i giorni In realtà è già da una settimana abbondante che sto lavorando Senza mai riposare e staccare un giorno Però questi ultimi 5 giorni saranno quelli più pieni, più intensivi Dove lavorerò di più proprio perché manca sempre meno a Natale E quindi sarò un po' meno attiva sia su Instagram Probabilmente anche qui su YouTube Però oggi sto registrando comunque un video Anche se poi nel pomeriggio vado e lavoro Se poi vedo che il video sarà corto magari unisco qualche giornata Magari anche quella di domani Faccio un vlog di più giorni Comunque stamattina ho già fatto colazione Io ho preparato il tè Non bevevo il tè la mattina da una vita Cioè di solito faccio il cappuccino Oppure bevo un caffettino al volo E magari un caffè macchiato Perché in realtà il caffè normale Cioè lo liscio Non lo amo particolarmente Anzi non lo bevo praticamente mai Quindi di solito un cappuccino Oppure non bevo nulla a volte il caffè macchiato E stamattina mi andava il tè Quindi ho fatto quello Tra l'altro ieri sono andata a togliere le calze Della Befana che erano al posto dei poster Perché alla fine questo ungolino Me l'avevo già detto Non è che mi convince più di tanto Infatti sto anche pensando di portare giù in taverna L'albero di Natale Perché la vigilia di Natale La facciamo qui a casa nostra In taverna Con i miei genitori I genitori di Stè Mia sorella, suo fratello E i bimbi Io li chiamo bimbi Ma in realtà sono abbastanza grandi ormai E i nipotini Comunque Mi stavo pensando di mettere giù Quest'albero di Natale E qui rimettere i vasi che c'erano prima Perché Boh Non Non mi convince Non so perché C'è qualcosa che Non mi piace Quindi stavo pensando proprio di Andare a spostare l'albero Visto che facciamo Natale giù Mettere qualcosa di Natalizio giù Anche se già Qualcosa c'è Però pensavo di spostare l'albero Adesso vedo Adesso vado a rifare il letto Perché Lo sto facendo girare nell'aria Ormai da un'ora e mezza Infatti Di là fa freddissimo Quindi Faccio Rifaccio il letto E poi vi faccio vedere in cabina armadio Cosa ho giunto qualche giorno fa Vi faccio subito vedere Cosa ho inserito in cabina armadio E' tornato Il tappeto Questo prima Lo avevamo Sul soppalco Nella zona Insomma davanti al divano Poi lo avevo tolto Per un bel po' di tempo In realtà Quasi un anno Sono andata a riprenderlo E l'ho messo qui in cabina armadio Questo L'avevo preso Quasi Due anni e mezzo fa Su West Wing Ed è un grigio scuro E poi Sopra ho messo Questo puff Al centro E devo dire Che è molto comodo Il tappeto Al centro Della cabina armadio Perché quando ci cambiamo La sera Per metterci Il pigiamo Oppure la mattina Prima di uscire Per andare a lavoro Avere i piedi Sul tappeto Quindi tappeto caldo E poterci sedere Sul puff Devo dire che è Molto molto comodo Però Chiudiamo sempre la porta Perché C'è una signorina In particolare Ovvero Lei La signorina moca Che ogni tanto Va A fare qualcosa Che non deve fare Lei è bravissima Gioia non fa Assolutamente nulla Tra l'altro Devo lavare anche Le loro cucciette Perché ieri Stigliato il pane Con un po' di pomodoro Un pezzettino di pane Già l'ha mangiato Sulla cuccietta Quindi Ha sporcato tutto Comunque dicevo Lei è brava Non va sul tappeto A fare nulla Lei invece ogni tanto Ha questo brutto vizio Quindi Per non rischiare Chiudiamo sempre La porta Un evitare Sorprese Un evitare fare nulla Un evitare Grazie a tutti. Non so se ci avete fatto caso mentre facevo il letto ma su questa parete abbiamo tolto tutte le prese, tutti gli interruttori, è venuto l'elettricista qualche giorno fa e ha smontato tutti gli interruttori, le placche che erano montate su questa parete perché appunto non ci servono andando ad inserire l'armadio e ci sono i buchi, come vedete ci sono rimaste le scatoline vuote. Adesso io devo andare a togliere i chiodini, non so se si vedono questi qui perché prima qua avevamo la galleria di poster sulla parete, sono rimasti i chiodini in realtà ci sono tipo da moca e così da un po' di tempo. Però devo andare a togliere anche questi perché questa settimana esattamente venerdì vengono a metterci l'armadio e io non vedo l'ora di vederlo. Mi avevano promesso che sarebbe arrivato in tempo per Natale e così è stato, arriverà esattamente il giorno prima di Natale, il giorno della vigilia. Bellissimo regalo di Natale e poi vi farò vedere tutto, tra l'altro la camera la vedete un po' sotto sopra nel senso, ad esempio ci sono qua i vasi, ci sono un po' di cose in giro proprio perché ci siamo ormai, manca poco. Quindi ho già iniziato a togliere, ad esempio, la cassettiera che era su questa parete che ho portato nello studio, vi ho fatto vedere poi dove l'ho messa nel video precedente. Adesso vado a preparare il pranzo fra poco perché io alle 2 devo partire, non ho idea di che ore siano adesso, 11.20 ok, è ancora presto per preparare il pranzo, però per mezzogiorno devo assolutamente mettere su qualcosa perché altrimenti non faccio in tempo. Tra l'altro oggi se deve andare a fare il tampone, ebbene sì, incrociamo le dita, deve andare a fare il tampone perché nel suo ufficio, meglio in azienda c'è un ragazzo che ha risultato positivo, se è stato a contatto tra virgolette con lui per poco però c'è stato e quindi è in quarantena per 5-6 giorni e oggi avrà il tampone. Se è negativo da domani torna in ufficio, io mi auguro che sia così, altrimenti poi toccherà farlo anche a me, però stiamo bene. Io ho avuto il raffreddore qualche giorno fa abbastanza forte, però nessun altro tipo di sintomo e sto proprio bene, quindi secondo me è solo una leggera influenza la mia, lui invece non ha avuto nulla, quindi insomma secondo me non l'abbiamo ripreso per la seconda volta a distanza di 6 mesi. Mi auguro però vi terrò aggiornati, anche perché sarebbe un incubo fare le vacanze di Natale chiusi in casa io e lui, è successo a Pasqua e spero non succeda anche a Natale, me lo auguro ma credo di no. Ciao ragazzi, parlo a bassa voce perché c'è Stec che sta facendo una riunione di lavoro e alla fine ieri non ho più ripreso nulla, infatti oggi è martedì, sono appena tornata a casa da lavoro, infatti sono vestita ancora da lavoro, però adesso vado a cambiarmi, prima però volevo uscire un attimo a fare una commissione, devo passare dalla commercialista a chiudere l'anno 2021, quindi non mi sono cambiata proprio per questo perché so di dove era andare, però stavo aspettando un attimo i miei perché viene qui mio papà a sistemarmi il muro perché il muro della camera è stato rotto, ieri forse non vi ho fatto vedere, però è stata fatta una spaccatura perché avevo bisogno di portare un punto luce su una parete, avendo rotto il muro bisogna adesso sistemarlo, quindi andrà a sistemarlo lui, lo sto aspettando così poi appena arriva io vado dalla commercialista, tra l'altro sono stata anche a prendere gli ultimi regalini di Natale oggi dopo lavoro, così poi stasera vado a confezionare e preparare tutti i pacchettini e ho ufficialmente finito con i regali, devo prendere giusto due cosine che voglio aggiungere in più, ma quelle le prenderò praticamente all'ultimo, quasi l'ultimo giorno, magari il 23 dicembre, comunque ieri alla fine non ho più filmato nulla perché sono andata a lavoro, sono tornata a casa alle 9 e un quarto, sono andata a prendere una pizza perché non avevamo voglia di preparare nulla, io ero cotta, ho lavorato tutto il giorno col mal di testa, si è lavorato anche lui fino a 10 alle 9, quindi abbiamo detto sai che ci prendiamo qualcosa da sporto, sono passata in pizzeria a prendere la pizza, l'abbiamo mangiata, mi sono fatta subito una doccia perché avevo proprio questo mal di testa da tutto il giorno, quindi avevo voglia di mettermi il pigiama, farmi una doccia e poi mettermi a letto, infatti così è stato, sono andata a dormire abbastanza presto, tipo 10 e mezza e stamattina alle 5 e mezza lo sveglia, infatti mi sono poi svegliata verso le 6, ho fatto qualcosina prima di andare a poi lavoro stamattina a 7 e 30 e nonostante mi sia svegliata così presto, devo dire che non ho un filo di sonno, anzi sono super carica, quindi molto bene, tra l'altro non è ancora arrivato l'esito di stè, stiamo, ha controllato prima ma non è ancora uscito, quindi stiamo sperando di poterlo sapere entro oggi, così da stare subito tranquilli, vediamo, speriamo che esca. Vi faccio vedere qual è il muro da sistemare, questo angolino qui, ha praticamente dovuto rompere il muro per far passare questo cavo e portare un punto luce qui, questo ci accende la luce sul balcone, mentre questo accenderà un'altra luce che ho fatto aggiungere e quindi abbiamo dovuto fare questo lavoretto, direi che il muro così non può restare, quindi verrà sistemato sia qui che qua, intorno alla presa perché anche da questa parte si è leggermente rovinato, quindi andiamo a sistemare questa cosa e poi bisogna togliere, che alla fine ieri non l'ho fatto, i sei chiodini che ci sono, però questa sarà un lavoro molto molto veloce, anzi forse se faccio così sono capace anche io, alla fine poi ieri non ho provato, però mi sa che a svitare così, infatti, viene via. Ah che brava, ho già fatto, bisogna togliere poi il fischer che c'è all'interno, però almeno i chiodini sono venuti via. E' appena arrivato l'esito del test di ste e annuncio con le piccoline, è negativo, grazie a dio è negativo, un po' me l'aspettavo, devo essere sincera, perché comunque l'abbiamo fatto, come vi ho detto ieri a marzo, marzo-aprile, e siamo vaccinati, quindi insomma, prenderlo a distanza di così poco tempo, mi sembrava un po' non strano, però insomma, non me l'aspettavo, infatti è andata bene, negativo, quindi può tornare ad uscire. Ma è una bella notizia, voi che dite? Bene, sono molto contenta. Io che volevo firmare, invece sono arrivata tardi, perché ho già fatto. Nel frattempo mi sono cambiata, mi sono vestita più comoda per stare in casa con la tuta, io dovrò stare in casa con la tuta, ho fatto tutte le cose che devo fare, quindi sono stata dalla commercialista, ho finito tutte le spese che avevo per quest'anno, ogni volta alla fine dell'anno è un colpo quando bisogna pagare, comunque c'è anche questo da fare. Al di là di questo, ho preparato i calendari dell'avvento, così li apro, perché stamattina mi sono alzata presto, però non ho pensato al calendario dell'avvento, quindi apro le caselline oggi. Tra l'altro, prima abbiamo anche tolto il tappeto qui sul soppalco davanti al divano, che mi piace tantissimo come ci sta, però moca ci ha fatto la pipì. E io non so come risolvere questa cosa, questo brutto vizio che ha. Se non ci accorgiamo, lei prende le scale, sale e fa la pipì sul tappeto, cioè non so perché, Gioia non lo fa, ma lei lo fa. Qui non abbiamo la possibilità di chiudere la porta come in cabina armadio e quando è a casa da sola ogni tanto ci fa questo scherzetto e essendo il tappeto bianco, insomma, si è sporcato. Quindi adesso l'ho tolto perché lo voglio pulire bene. A proposito, se avete qualche trucchetto magico, qualche metodo infallibile per pulire i tappeti, quando i cagnolini fanno la pipì, fanno i loro bisogni sul tappeto, fatemi sapere se c'è qualche modo. Vi sto su Amazon che c'è un aspirapolvere, o meglio un lavatappeti, non è un aspirapolvere, ma è un lavatappeti, che sembrerebbe funzionare molto bene, però costa una cosa come quasi 300 euro. Io non volevo spendere così tanto per qualcosa per pulire il tappeto e quindi, insomma, volevo trovare un'altra alternativa, diciamo, più economica, però voglio anche trovare il modo per insegnare a Moka a non fare questa cosa, perché noi la sgridiamo quando ci accorgiamo che la fa, lì al momento, ma se siamo fuori casa e lei sale, non possiamo sgridarla e quindi poi lei non riesce a capire che non lo può fare. Non so perché ha questo vizio, non lo so, infatti dovrò cominciare a riprendere le traversine, perché prima le avevamo, poi non le avevo più comprate, perché comunque vendo il giardino loro escono, però adesso voglio rimetterle, qua almeno quando siamo fuori casa, vedere se impara che se deve farla più in casa la deve fare lì e non sul tappeto. Quindi l'ho tolto perché non si poteva vedere, però non mi piace neanche più di tanto, sarà perché forse ci avevo fatto l'occhio, vedere tutto senza tappeto, boh, quindi voglio trovare un'alternativa. Stavo anche pensando di mettere un cancellino, i classici cancellini che si mettono quando ci sono i bimbi, per non fargli fare le scale, ecco, una cosa del genere, così almeno loro si fanno le scale, arrivano qui, poi c'è il cancellino e non possono venire sul soppalco e quindi di conseguenza non c'è il rischio che moca ci faccia la pipì. Però la nostra scala è leggermente più larga rispetto alle standard, quindi il cancellino che magari si trova su Amazon o che si può trovare già pronto non va bene perché è troppo piccolo, quindi bisogna farlo fare su misura e stavo pensando magari di farlo fare al falegname, un semplice cancellino bianco molto pulito, molto lineare, da mettere alla fine della scala, quindi qui sul soppalco e non giù perché se fanno le scale comunque non c'è problema, però avere un blocco per non farle venire poi sul soppalco e quindi boh, magari mi informo, vedo se è fattibile, se loro non lo riescono a fare, così magari metto il cancellino e poi posso rimettere il tappito, perché adesso francamente non mi fido più di tanto a rimetterlo perché ho paura che lo sporchi di nuovo, quindi restiamo senza dopo una volta magari messo un cancellino, ho trovato un'altra soluzione o semmai imparerà, perché non ho ancora imparato questa cosa, Gioia invece non lo fa, ce lo fa solo lei, quindi non capisco perché. E dopo magari appunto rimettere il tappito, vediamo, intanto pensiamo a finire la camera, e dopo penseremo all'eventuale cancellino. Apro il calendario, tra l'altro vi faccio vedere anche il mio meraviglioso albero di Natale acceso, che è un gran peccato perché non si vede molto spesso nei miei video, perché non vengo di solito qui a registrare i vlog quando li faccio, perché alla fine questa zona di casa è una zona relax con il divano, ma la usiamo un po' poco, nel senso che non abbiamo neanche il tempo di metterci sul divano a guardare la televisione, perché stiamo lavorando tanto tutti e due, e se vogliamo rilassarci, guardare la tv, avendo la tv in camera, alla fine sapevo che sarebbe successo così quando se l'anno scorso ho voluto mettere la tv in camera, finiva a finire che guardiamo la televisione nel letto, e quindi qui veniamo un po' meno, quindi è sempre tutto perfettamente in ordine, e di conseguenza il mio bellissimo albero di Natale si vede un po' poco nei video, perché vengo poco, comunque lo utilizzo come sfondo, mentre apro i calendari dell'avvento. Calendario di Balea, casellina numero, oggi cos'è? Il 21, manca sempre meno Natale, ormai ci siamo, vediamo cosa c'è, e c'è un prodotto per la doccia, dovrebbe essere un gel doccia, dopo vado a controllare perché è scritto in tedesco, non ho preso il fogliettino con le traduzioni, dopo verifico, però dovrebbe essere un prodotto da utilizzare per lavarsi il corpo, mentre nel calendario di Ava May, perché io ho soltanto questi due, nella casellina 21 cosa c'è? Vediamo un po', scatolina piccolina, quindi sicuramente c'è una mini candela, perché quando il formato è questo di solito c'è una mini candela, vediamo se è così, ebbene sì, e abbiamo la candela scandinavia, che mi piace davvero tanto, questo set, questa fragranza, ce l'avevo anche nella versione grande, che ho finito, ed è molto, molto buona, io tra l'altro queste, trovandole molto spesso nel calendario dell'avvento, le accendo la sera, e le sto utilizzando, perché comunque sono piccole, quindi non durano tanto come la classica candela, però anche è un ottimo modo per poter provare fragranze diverse. Sono qui sul soppalco, dove ho il pc, perché sto editando questo video, ne approfitto intanto che sta facendo la doccia, perché poi quando faccio la doccia, mi metto il pigiama, voglio subito andare a letto, e quindi ho pensato di chiuderlo prima, visto che l'ultima volta mi sono dimenticata di farlo, e ne approfitto intanto anche per editare questo, questo broma così magari da farlo uscire domani. Comunque forse non vi ho fatto vedere qui su YouTube, dall'alto, la ghirlanda che ho messo sul parapetto in vetro, va proprio sia sulla parte che si affacciano sul soppalco, che questa, dove ci sono le scale che portano a questo soppalco più piccolo, e devo dire che ogni anno mi piacciono sempre molto come ci stanno, anche se non sono decorate con lucine o decorazione di popaline, perché c'è soltanto la ghirlanda verde innevata, e devo dire che mi piace comunque molto così diciamo al naturale. Comunque detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, vi auguro un buon Natale, a voi e alle vostre famiglie, perché penso proprio che questo sarà l'ultimo video prima del Natale, quindi noi ci vediamo poi dopo le feste, un bacione e a presto, ciao! Ciao!